Ciao a tutti amici di Radio Victoria e benvenuti nel Victoria Studio, la regia centrale di Radio Victoria. Come avete notato sta spopolando questo hashtag RV7 perché siamo ufficialmente entrati nel clima di festeggiamento per i sette anni di Radio Victoria. Quindi vi aspettiamo tutti per la nostra grande festa di celebrazione. Il 24 di aprile sarà una domenica e saremo tutti quanti, noi dello staff di Radio Victoria, all'East Chicken di Orbasana dove festeggeremo naturalmente in diretta su Radio Victoria. Quindi vi aspettiamo, non mancate a festeggiare con noi sette anni in questo clima di festa dove si assegneranno anche i premi per il miglior DJ, miglior speaker, rivelazione dell'anno e naturalmente anche miglior programma dell'anno. Quindi tutti quanti RV7, 24 aprile 2016, Earth Chicken, Orbasano con Radio Victoria. Ciao a tutti!